Anche la sentenza di secondo grado ha confermato la regolarità nella realizzazione del crescent. La Corte d'Appello ieri ha assolto tra gli altri Vincenzo De Luca, che fu il sindaco che avviò la trasformazione urbanistica e la nascita dell'emiciclo. La sua giunta comunale, gli imprenditori Rainone e Chechile, mettendo fine a dieci anni di battaglie giudiziarie sulla nascita dell'emiciclo disegnato da Bufil, e chiarisce anche la regolarità degli atti contro le accuse di lottizzazione abusiva e le richieste finanche di confisca dell'edificio. Continuiamo ad andare avanti per il definitivo completamento dell'opera tassello fondamentale per la ripartenza della città, ha detto il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli. Questi invece i commenti a caldo davanti all'aula bunker del Tribunale di Salerno, dopo la lettura della sentenza. Ho confermato che l'amministrazione ha operato nel pieno rispetto delle regole, delle norme. Io ho sempre valutato un procedimento di questo tipo come un ulteriore momento di verifica e di legalità. Abbiamo affrontato questo ulteriore procedimento con grande serenità perché siamo stati sempre sereni, convinti di averlo operato bene. Certo, grande soddisfazione, ma in fondo ci aspettavamo che questa Corte molto attenta avrebbe considerato tutti gli elementi che abbiamo fornito. La ricostruzione che ha fatto il Tribunale di Primecure è una ricostruzione perfetta, francamente non poteva essere messa in crisi dall'appello del pubblico mistero. Per cui noi eravamo sereni e la nostra serenità è stata ripagata da una sentenza assolutamente equilibrata. Non c'era niente in questo processo, assolutamente niente. È nato male, è stato condotto in primo grado con grande maestria da un tribunale responsabile e colto. E poi c'è stato questo appello che per la verità non ha portato nessun fatto nuovo, non ha accertato niente, se non che i consulenti del pubblico ministerio sono stati in qualche modo sospettati dagli stessi pubblici ministeri. Sono stati gli unici a non credere nei loro tecnici. La verità di questo grande procedimento di riqualificazione urbana fatto dal Comune di Salerno, perché chi come noi è nato a Salerno ricorda ancora che cos'erano le chiancarelle. Le chiancarelle di Salerno vicino al centro storico era quella zona di degrado vicino al porto commerciale che oggi è stata riqualificata non solo attraverso una piazza, ma così come avviene nella cora greca con una grande cortina di fabbricato che è stato posto all'asta, cioè è stato acquistato attraverso una gara, una procedura, attraverso imprenditori che ci hanno creduto, che l'hanno fatto e che hanno lottato per poter portare avanti dopo dieci anni la verità che oggi è quella di una soluzione.